Ciao a tutti ragazzi, benvenuto in questo nuovo video con il vostro X-Brizz Partita veramente, veramente intrigante Quella di cui andiamo a parlare, quindi Alexander Lazarov contro Lorenzo Musetti ATP 250 di Sofia, ottavi di finale Partita veramente, veramente bella Risultato un po' bugiardo, 2-7-1 per Musetti Però, cioè, sono felice per Lollo Sono felice che può continuare la sua avventura Praticamente era solo agli inizi oggi di Sofia Si vedrà adesso contro chi andrà a giocare ai quarti di finale Se Ostroff o Umber Però ragazzi, oggi Lazarov ha fatto una partita incredibile Molti non conoscono Alexander Lazarov, temista bulgaro, classe 97 Diciamo che ha avuto pochi spazi Non ha mai fatto quel salto di qualità Quindi è un giocatore da Challenger, un giocatore da ETF L'ultima volta che l'ho visto giocare è stato proprio contro Luca Nardi Che poi ha perso in semifinale a Mallorca 2-7-1 Però poi da lì, diciamo, è un giocatore, sì, che se la giostra bene nei Challenger È classificato in top 300, è ok E tu mi dirai Sì, ma può un giocatore di questa caratura Di questa caratura Mettere in difficoltà Lorenzo Musetti Sì, sì Ha fatto proprio questo Alexander Lazarov Lazarov poteva benissimo vincere la partita 2-7-0 Invece, diciamo, poi il tutto Come dire È vero che aveva tutto il pubblico con lui Ogni colpo si sentiva la forza del pubblico Lazarov oggi veramente i primi, primo set, un sette e mezzo Sembrava veramente che era, non lo so, sia reincarnato Federer Adesso non esageriamo a paragoni Ma ha giocato un tennis veramente veramente bello Molto fortunato La maggior parte dei colpi dentro Lini Ragazzi ha trovato di tutto Musetti dall'altra parte del campo Io l'ho visto, non ha giocato male Lollo In primo set, nel secondo set Poi, beh, è riuscito a portarsela a casa Però Per quanto Musetti cercava di chiudere punti O di contenere i Lazarov Lazarov giocava a delle cose imprendibili Quindi mi metto anche nei panni di Musetti E dico Oh, io ho giocato il mio Se poi lui è stato più bravo Alzo le mani Il primo set termina 7-6 Tie break 7-5 Con un Lorenzo Musetti Che Addirittura Ha concesso una palla break nel primo set Poi si va al tie break Il tie break di Lazarov Praticamente perfetto Perché non concede neanche un mini break E ne concede solo uno Musetti Lazarov poi, molto lucido Chiude 7-5 Dunque, le statistiche varie del primo set Non c'è poi un vero e proprio servizio vincente Il servizio ha fatto tutto Anche perché ha servito meglio Musetti rispetto a Lazarov Però ragazzi In risposta Il tenista bulgaro Ha giocato molto, 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 molto bene Soprattutto Rispondeva bene Anche alle prime di Musetti Nel secondo set invece La partita Poteva benissimo finire Con la vittoria di Lazarov Perché questo? Perché Musetti Siamo sulla situazione del 4 pari Musetti va a servire E concede due Palle break A Lazarov Riesce a portarsi a casa quel game al servizio Che era il nono Quindi 5-4 Musetti Va a servire Lazarov Che comunque anche lui Concede un set point a Musetti Non riesce a sfruttarlo Musetti Lazarov in questa circostanza Diciamo che il servizio funzionava C'era tutto se stesso In questi ultimi punti del secondo set 5 pari Musetti va a servire Per staccare il ticket del tie break Del secondo set E si fa breakare Concede due palle break Alla seconda Lazarov se la porta a casa Cosa succede adesso? Lazarov è pronto a servire Per chiudere E per vincere per la prima volta Contro Lorenzo Musetti I due non si sono mai incontrati prima È la prima volta Lazarov Tennista bulgaro ATP Classificato 336 Non lo so quant'è Sta per battere un Lorenzo Musetti Credibilmente però Alexander Lazarov Blocca Musetti dall'altra parte Cattivissimo È andato a prendersi punti Ovviamente Musetti non voleva perdere questa partita Non voleva perdere questo set Molto bravi risposta Lollo Lazarov si blocca definitivamente E si va sul 6 pari Ora Ora Un tennista Che ha avuto Il servizio a disposizione Per chiudere Va in un tie break Lo perde malamente La testa fa tanto E infatti Parte subito Con il mini break Per Musetti Musetti va sopra 4-2 Alla fine Dopo i due punti successivi Vinti da Lazarov Con il proprio servizio Musetti perde per ben due volte Il servizio E allora Siamo sulla situazione Di 5-4 Lazarov Due possibilità Di chiudere per il bulgaro Con il servizio Una possibilità Doppio fallo E lì dici Come? Seconda possibilità Musetti Riesce a prendere il mini break Si gira sul 6-5 6-5 vuol dire Set point Musetti Servizio a Musetti E anche in questo caso Lazarov Musetti Anzi Musetti non riesce a chiudere 6 pari 7-6 7 pari Lazarov Si fa mini break E Musetti Sul set point Doppio fallo 8 pari 9-8 Per Musetti E alla fine Perde Il servizio Lazarov E allora 10-8 Chiude il secondo set Veramente Un tie break Tutto Iniziato Poi Da quel game Malservizio Che Lazarov Non è riuscito a chiudere Perché Musetti Ragazzi era spacciato Cioè Lazarov Stava giocando così bene Con così tanta foga Con così Il pubblico Tutto quanto Era perfetto Ok? Io sarei venuto qua In video Avrei detto Che comunque Musetti Ha combattuto bene Tutto quello che volete Ma Lazarov è stato superiore Terzo set Lorenzo Musetti Torna ad essere Un top 30 Chiude La partita Vincendo 6-2 E La piccola avventura Di Alexander Alexander Lazarov Finisce qui Dal vostro XB È tutto Lasciate un like Commentate Iscrivete Fatevi nei commenti Se avete visto la partita Se vi è piaciuto Lorenzo Un bacione Bella a tutti Grazie